Scusi, che cosa? Ho detto benvenuta. Si sieda. Ero qui, al suo fianco, quando ha urlato, quando ha pianto, mi lascerebbe solo qui. O mi andrà la cura? No, non si è mai sicuri, ma non ce la faccio più. Se lei se ne va a volare, io con i piedi a terra sto. Oh, ma poi non mi tiro su, da solo non ci sto. Ma come fai a sapere quanta memoria hai perso se ne hai persa? Stai scherzando, è vero? Papà, questa è una cagata. Niente parolacce. I pazienti hanno detto che è come diventare una nuova persona. Questa è una cagata! Lei si fida di te! Natalie! Questo film lo ci ho visto con Jack Nicholson in tv. E questo è un manicomio come il nido del cucù. Non pensi che ne annullerò per lei? Non lo contemplate. Non sono Sphiglia Flair. La nuova Francis Farmer non sarò per voi. Dalla mia testa va via, questa è vera follia. Non vuoi anche tu? No. Rivoglio chi eri, è dentro di te. La sua memoria ancora là, qualche foto servirà, souvenir di ciò che ha lasciato. Dovrei accennare a... Lo accenni pure anche se, è meglio che non ci sia stress, il momento viene da se, ci provi. Qui è la nostra prima casa, Walton Way, che amore fuori. E poi dopo costruimmo questa qui. In questa foto insieme sorridiamo tutti e tre. E il Photoshop non sembra che ci sia. Torneremo alla terapia verbale. Spiaccico a fondo. C'è altro lavoro da fare. Forse lo permetterò. Guardami cadere. Forse dovremmo considerare un nuovo regime medicinale. Sarà male, ci dirò. Ci sono altre terapie promettenti. Edi MR, per esempio. Guardami, cacce di tu. Guardami, cacce di tu. Diana, cacce di tu. Sopravvivrò. Diana! Giorno per giorno, si troverà la nostra via. E si sa che in cieli bui il sole spiarirà. Luce sa... RAAA! Giorno per giorno, si troverà la nostra via. Giorno per giorno, si troverà la nostra via.